Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove per lavori di miglioramento della sicurezza adesso ci sono rallentamenti tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. Si ricorda anche che è chiusa l'entrata di Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. Segnaliamo che il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Restano validi percorsi alternativi sulla strada provinciale 12 e sull'autostrada 11. Sempre in FIPILI per lavori è chiusa l'uscita di Tirregna provenendo da Firenze. Code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. In A1 in direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. In direzione Roma rallentamenti tra il bivio con la variante di Valico e Aglio. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!